Oggi i sindacati avrebbero dovuto incontrare i vertici della NUCO sorta dalle ceneri di Unilever per condividere le novità relative al pronunciamento ufficiale di Enea sulla sostenibilità e sulla finanziabilità del piano industriale. L'incontro è stato però posticipato al 10 ottobre perché da Roma non sono ancora giunte novità di rilievo. Ad oggi infatti non è dato sapere se Enea abbia incontrato i vertici del ministero e soprattutto quale sia stato l'esito di un eventuale incontro. Il silenzio tombale che avviluppa l'intera vicenda non lascia presagire nulla di buono. Enea, informalmente, avrebbe fornito ai vertici aziendali il proprio assenso rispetto al piano industriale. Le buone intenzioni andavano però ufficializzate attraverso un documento che non è mai stato firmato. Intanto Unilever ha annunciato 3.500 licenziamenti in tutta Europa e nel contempo ha dichiarato che per Pozzilli non tollererà ulteriori ritardi da parte del ministero. Dunque la situazione del nucleo industriale di Pozzilli inizia a divenire drammatica. La Roma è in sofferenza a causa del calo di commesse da parte di Stellantis. Per l'economia dell'intera provincia di Sernia e non solo sarebbe un ulteriore colpo ferale.